Centrocampista a 1,82 m, 30 anni ed un passato di tutto rispetto. Jacopo Dall'Oglio arriverà alla corte di Roberto Taurino probabilmente già a partire da domani, non oggi solo per motivi logistici. Il calciatore ha chiuso l'accordo con i Lupi proprio questa mattina, a titolo definitivo si trasferirà in Irpinia e qui si collocherà accanto a Daniele Franca in una mediana che sta diventando davvero interessante. A confermare i termini e la gestione della trattativa è stato il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini. Sì, sì, è concluso. Senta, ci può dare un po' i termini di questo accordo? Un accordo definitivo. Accordo definitivo. Senta, com'è andata la trattativa? È stata veloce? Sì, 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 è stata veloce. Favorita immagino dalla decisione del ragazzo, anche dai buoni rapporti che intercorrono tra lei e il suo omologo bianco-verde? Sì, sì, sì.